Ciao a tutti, bentornati a Spacca. Oggi parleremo dei pinguini tattici nucleari. Bentornati allo Spacca Quiz, io sono Rania, la conduttrice, e oggi sono qui con Alice Ciao e Ajar Ciao Iniziamo con le domande. Da qui è composta la band Vai Alice È composta da sei amici provenienti dalla provincia di Bergamo. Corretto. Come si chiama il loro leader? Sempre Alice Il loro leader si chiama Riccardo Zanotti. Bravissima, siamo due a zero. Quando divennero famosi? Vai a Ajar Boh, dopo il Covid. Sbagliato. Alice, tu la sai la risposta? Divennero famosi nel festival di Sanremo 2020. Giusto. Perché decisero di darsi questo nome? Vai Alice Il loro nome deriva dalla birra scozzese Tactical Nuclear Penguin. Bravissima, hai vinto il quiz con un 4 a 0. Ora ti farò altre domande solo a te. Iniziamo con le domande. Di cosa parlano di solito i pinguini nelle loro canzoni? Parlano soprattutto di ricordi e di persone o cose a cui sono affezionati. Secondo te perché così tante persone ascoltano i pinguini? Secondo me perché mettono molta carica e sanno di estate e non ti stufano. Sei mai stato ad un loro concerto? No, però alla prima data libera vorrei sicuramente andarci perché mi piacciono un botto. Dai, quasi quasi vengo con te. A chi è dedicata la canzone ricordi? È dedicata a tutti i malati di Alzheimer, che è una malattia che fa perdere la memoria. Qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita è Scrivile Scemo. Grazie Alice per essere stata qua con noi ancora una volta. Ora passiamo ad Ajar. Ajar, avresti qualcosa da dirci anche se hai perso lo Spaccaquiz? Sì, i pinguini hanno pubblicato molte canzoni e l'altra volta ne abbiamo cantata una perché stavolta non ne cantiamo una. Scrivile Scemo, stanotte non dormi, trucchiamali i sogni ma sono ricordi. Let's go! Un'altra? Rubami la notte! Voglio stare fuori come Batgan e nel fuoco non si dorme. Un'altra? Noi siamo giovani wannabe. I dei fiori del male, guerre lontane, noi sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang! Stop! Ajar ci deve dire una cosa. Devo fare un appello. Ragazzi, amici o amiche, se ci avete ascoltato anche solo per qualche secondo metteteci un like. E poi Andrea, Riccardo, amici o amici, voi che spaccate, se ci siete iscrivetevi. Grazie per averci ascoltato fino a oggi, un saluto a tutti quanti, ciao!